ragazzi come e dove festeggiate san valentino festa gli innamorati siamo una coppia gai però ci vogliamo molto bene io spero anche nel napoli ci sia una coppia come noi siamo molto felici che vincere anche quello scudetto gai e tu giuseppe beh io sicuramente non come ha detto lui però io eseggerò il mio san valentino tra le lenzuola al caldo davanti al caminetto con una bella bottiglia di spumante una rosa sul tavolino e questo è il mio san valentino non non sbilancio oltre a questa cosa qua che non voglio andare più nell'intimo diciamo allora mi bilancio questa moto mi fermo così comunque lo festeggiate insieme certamente lo faremo insieme queste cose così lo faremo nel sotto le lenzuola però certamente insieme spero che il napoli da una svolta anche nel parlamento che viene la coppia di fatto coppia civile bene ciao a te beh io lascio commento quelle che ha detto lui ciò che si sciolgano di più nella regione campania e danno più al via a questi alla possibilità alle coppie di andare avanti nella loro vita senza stress perché noi siamo sempre o inglesi o italiani sempre siamo essere umani con questo mi fermo qui